Abusi edilizi, veleni a quarto, una foto accusa Rosa Capuozzo, sindaco del Movimento 5 Stelle, eletta lo scorso maggio. Il dossier è nelle mani dei carabinieri e il primo cittadino risponde sul blog di Beppe Grillo. Capuozzo è sotto pressione per l'ultima vicenda che ipotizza abusi edilizi nella casa di proprietà del marito in via Masullo, appunto a quarto, fonte di polemiche e veleni. Le dieci pagine di indagini accuse sono arrivate pochi giorni fa tra le mani dell'opposizione. L'avvocato penalista Luigi Rossi lo ha subito consegnato ai carabinieri. Ci sono accertamenti in corso, al comune nessuno sa spiegare come dall'ufficio tecnico siano uscite le carte della pratica numero 158, che riguarda i documenti integrativi che sia il marito del sindaco per completare una pratica di condono. Secondo Giuseppe Romano, gli abusi edilizi sarebbero successivi all'ultima data utile, il 2003, per usufruire appunto del condono. Chi ha consegnato gli atti comunali alla persona che li ha fatti circolare? Il sindaco Rosa Capuozzo parla di documenti trafugati e costruiti ad hoc. Sul blog di Grillo Capuozzo risponde e si sfoga. Da giorni circola un plico di documenti su un presunto abuso edilizio, che seppur parzialmente mi riguarderebbe. Ne sono venuta in possesso e la prima cosa che ho fatto è stata presentarmi dai carabinieri per chiedere loro di compiere tutti gli accertamenti nel più breve tempo possibile. Lo scorso lunedì in via Masulli intanto si è presentata una squadra di tecnici per effettuare accurate verifiche degli immobili, di cui è comproprietario Ignazio Baiano, marito del sindaco. E dice ancora Rosa Capuozzo, pubblicherò online i risultati di queste indagini tecniche appena disponibili. Chi è autore di questo romanzo di fantasia dovrà risponderne in tutte le sedi deputate. È solo pretestuosa polemica politica di chi gioca a piegare i fatti a propria convenienza. In questo circo non voglio entrarci, ho tanto lavoro da fare per i cittadini.